Contratti a rischio e troppe incertezze. Sono state elencate in otto punti le motivazioni che hanno portato allo stato di agitazione del personale dipendente dell'azienda ospedaliera Marche Nord e dell'area Vassa 1. La comunicazione è arrivata dall'RSU unitamente alle organizzazioni sindacali e territoriali di Peser Urbino che hanno chiesto l'attivazione della procedura di conciliazione delle controversie davanti al prefetto. Lo scorso 8 novembre c'è stato un incontro in Regione. Di che cosa si è discusso e che cosa è emerso? Nell'incontro in Regione credevamo di poter discutere del futuro della nostra provincia per quello che riguarda la creazione della nuova azienda sanitaria territoriale e della proroga dei contratti che avranno scadenza il 31 dicembre. Ma purtroppo non abbiamo avuto alcun tipo di risposta esaustiva e anzi ci è stato detto che i contratti a termine la decisione o comunque sia verrà presa nelle prossime settimane con la firma di legge di bilancio. Ma questo per noi è molto preoccupante perché rischiamo poi di non avere più nessun contratto da prorogare in quanto chiunque abbia delle offerte migliori lascerà la nostra provincia per andare da altre parti. Oltre a questo quali sono le altre ragioni che hanno portato allo stato di agitazione? Appunto non avere la certezza delle proroghe dei contratti a termine questo poi a cascata ricadrà su tutti i lavoratori in quanto saranno costretti a fare doppi turni, a saltare riposi, ferie. Non verranno concesse le ferie sappiamo che stiamo parlando del periodo natalizio e orari aggiuntivi che non vengono liquidati ma vengono messi solamente a recupero ore e questo non è accettabile proprio contrattualmente in quanto è il dipendente che decide se recuperarli oppure averli in pagamento. Inoltre un mancato adeguamento su quello che riguarda il servizio di pronte disponibilità così come previsto dal nuovo contratto collettivo nazionale. Dunque partono già le iniziative di mobilitazione? No, noi abbiamo indetto lo stato di agitazione tramite il prefetto, ci saranno 5 giorni di tempo per essere convocati e ci sarà una riunione, una conciliazione. Se non avremo delle aziende sanitarie delle risposte concrete che attueremo tutte quelle iniziative di protesta come il blocco degli straordinari e delle attività extra lavorative. I lavoratori ci sostengono in queste iniziative perché sono veramente stanchi di sopperire alle mancanze e alla malorganizzazione aziendale e regionale sulla loro pelle.